bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale dal vostro the batman il cavaliere oscuro di youtube per questo nuovo unboxing speciale manchester unite allora da come avevate visto nei video di fifa 21 avevamo acquistato con i nostri gameplay ovviamente la maglietta del manchester unite ma qui c'è ovviamente una cosa in più perché dato che si tratta di un unboxing non potevo non farvi vedere questo nuovo pacchetto che andremo ad aprire insieme perché ovviamente signori eccoci qua oltre la maglietta del manchester unite siamo diventati ufficialmente membri della squadra manchester unite con il pacchetto di benvenuto che adesso andiamo ad aprire insieme manchester unite eccoci qua official members la scatola è completamente in metallo come vedete adesso ve la faccio vedere l'apriamo insieme e andiamo a vedere cosa c'è dentro ovviamente dentro c'è ovviamente la tessera di appartenenza al sito ovvero siamo diventati membri ufficiali del manchester united quella qua la tesserina ovviamente la tessera ha una scadenza questo è l'abbonamento per gli adulti eccoli qua e scade infatti il prossimo anno del 2021 e questa è diciamo la tessera official member oltre la tessera ovviamente aprendo il pacca dentro eccoci qua eccoci qua ragazzi ci troviamo ovviamente dei dei premi insomma ecco prima di tutto eccoci qua questi sono i guanti del manchester united come vedete rossi e bianchi con il logo del manchester united ovviamente questi guanti si possono usare anche anche per diciamo usare lo smartphone perché vedete in cima hanno diciamo diciamo un tessuto speciale che ci permette che ci permette di usare i guanti anche con lo smartphone comunque ci sono i guanti ovviamente abbiamo il libretto che è una specie di libretto con tutta la storia del manchester united poi c'è questo qui che sembra sembra una lampadina ma in realtà è come vedete è un power bank con lo stemma del manchester united infatti come vedete va attaccato qui va attaccato a una porta aspa e poi va ricaricato e questo è una specie di piccolo power bank col logo del manchester united col suo cavetto ovviamente abbiamo questa qui questa qui questo piccola qui che è qua dentro adesso le faccio vedere abbiamo la spilletta ufficiale del manchester united che adesso ve la faccio vedere eccola qua la spilletta del manchester united molto bella guardate qua la spillettina che ovviamente metteremo nel nostro giubbotto estivo e poi c'è la penna del manchester united eccola qua la penna perfetto e questo era il pacchetto completo del tifoso del manchester united non ve l'avevo fatto vedere durante diciamo il gameplay di fifa perché ovviamente purtroppo ci ha messo un po da arrivarmi il pacco perciò purtroppo non ho potuto farvelo vedere subito questo pacchetto dell'official membership comunque e adesso comunque ve l'ho fatto vedere eccolo qua official membership manchester united bene ragazzi io si conclude qui per il momento questo nuovo unboxing speciale manchester united naturalmente ragazzi voi come sempre se vi è piaciuto questo nuovo video naturalmente ragazzi lasciate un like naturalmente mettete un bel mi piace naturalmente ragazzi continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci iscrivendovi al nostro canale a presto per un nuovo video ciao